ciao ragazzi sono saf come va questo è il mio hard disk esterno da 3 terabyte bene oggi vi dimostrerò un metodo incredibile tramite il quale potrete aumentare drasticamente la memoria di un qualsiasi hard disk esterno il tutto grazie a una o più monete ma eccoci al computer andiamo ad accendere l'hard disk esterno molto bene come vedremo il computer l'ha rilevato andiamo su get info non so adesso in italiano come sia non mi ricordo guarda informazioni che informazioni come vediamo appunto il mio hard disk esterno tiene 3 terabyte ho dato anche un titolo così io scherzoso insomma sia in giga che in terabyte che si può chiaramente rinominare ma proviamo quindi a mettere una monetina sopra l'hard disk come dicevo precedentemente e come vedrete sarete sorpresi sicuramente si apre un'altra finestrella nel quale dice che il nostro hard disk ora potrà tenere 33 terabyte incredibile ora possiamo anche fare eventualmente il giochino così per provare mettiamo togliamo mettiamo togliamo mettiamo togliamo e vediamo appunto la reazione che ha l'hard disk ovvero comunica al computer ogni volta l'aumento della memoria ma proviamo quindi invece con due monete nuovamente si aprirà una finestra ma guardate un pochino ora che memoria abbiamo ottenuto 66 terabyte incredibile direi cosa ne dite è da notare come chiaramente nelle pop up che si aprono il titolo dell'hard disk rimarrà sempre uguale 3000 giga 3 terabyte in quanto l'avevo nominato io così si può però notare come venga aggiornata la data di modifica dello stesso ovvero aggiornata al momento nel quale appoggiamo la moneta o monete molto bene ragazzi sono convinto che lo scherzone di fine anno vi sia piaciuto un sacco se è così mettete un bel pollice in su condividetelo con i vostri amici iscrivetevi al mio canale e non mancate al prossimo video che sarà il prossimo anno ciao ragazzi ciao